E' lei che mi stava inseguendo! Signore, perché mi stavate spiando? Io non la stavo spiando, signore. La stavo semplicemente proteggendo. Proteggermi? Ma se nemmeno la conosco, proteggermi da cosa? Da se stesso, signore. Comunque, non ci siamo nemmeno presentati. Chiedo scusa. Il mio nome è Cavalier Emilio Salgari, per servirla. Janez de Gomera. Corzarono al servizio di sua maestà, re del Portogallo. Signorianes! Vi agendo alla pittra! Non so che non vivete! La pittra! Menù pranzo fisso! Prima, seconda, contorno, acqua, vino, caffè, amata caffè, dolce, fosse, solo dei picceli, se ci sono, se no niente! Travestimento? Travestimento? Dico, travestimento? Travestimento! Guardi laggiù! Un'isola? Sì! E come si chiama quell'isola? Monpracetto! Sì! Laggiù esiste il cavo dei pirati, sì! Un pirata sanguinario che ha insanguinato tutti i mali! E come si chiama? La tigre di Monpracetto! Oh, conosciuto anche come Sandokan! Sì, giusto! Sandokan! Sandokan! E allora che l'avventura inizi! E allora che l'avventura inizi! E allora che l'avventura inizi! guide